Si chiama Brett Connellan, ha 22 anni d'età, è un ragazzo australiano ed è stato zannato all'improvviso da uno squadro ed è ricoverato in gravi condizioni, è successo all'argo della spiaggia di Bombo al sud di Sydney. Il giovane si è salvato solo grazie ai suoi amici che hanno fermato la perdita di sangue con un lancio emostatico, in attesa che arrivasse l'aria Murasa. Il ragazzo per fortuna, ripeto, qui in fare video che ce l'ha fatta Diego ancora, gli amici hanno per fortuna per lui salvato la vita d'esistenza, solo però un grande paura, un grande spavento per il buon Brett Connellan che nonostante la giovanità però sarebbe vista veramente brutta. Complimenti dunque a lui, complimenti dunque agli amici, il video termina qua, iscrivetevi, commentate e un cordiale saluto alla bollitudine da parte mia. Questo video vuole informare eventuali persone dicendo che queste cose capitano, sono tra virgolette l'oridea del giorno per chi fa surf, ma questo ragazzo è un vero e proprio fenomeno. Va il applauso, va il merito ai suoi amici che gli hanno salvato la vita. Grazie.